La posizione della Lega è sempre stata una posizione un po' più interventista, un po' più decisa forse, sicuramente rispetto a quella del Presidente del Consiglio. Abbiamo elogiato per esempio l'atteggiamento che ha avuto Putin, che ha avuto immediatamente un intervento militare nei confronti di chi non ragiona che in quel modo. Noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, qui non stiamo parlando con uno Stato dove si possa ragionare con la diplomazia, qui stiamo ragionando con il sedicente Stato islamico, con delle persone o dei personaggi che ragionano solamente con la forza e ragionano e ti dimostrano la loro forza e la loro superiorità.